Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dual Universe, un gioco che io aspettavo da anni, perché da anni che ce l'ho in lista. Ho finalmente avuto la possibilità di provarlo, grazie ad un codice, anche se effettivamente non ho capito quanto mi consentirà di giocare, perché è uscita la versione beta, quindi è caduta la NDA, quindi si possono far vedere dei gameplay e infatti la condizione per cui io posso avere questo titolo è che io devo portare due video, almeno due video o quattro ore di streaming su Twitch. Ho optato per i due video su YouTube. Il gioco viene venduto a pacchetti di mesi, se non sbaglio circa 21€ per 3 mesi, quindi è onesto. hanno deciso di andare su questa versione metodo di vendita a mesi, quindi con la sottoscrizione. Il gioco lo scaricate, ma poi per loggare dovete avere il game time attivo. Non so dirvi onestamente quanto avrò di tempo per giocare, però insomma ci sta anche mettendo molto a caricare, ma quello che viene presentato nel video iniziale è la situazione seguente. Una stella a neutrini distrugge la Terra, noi ce ne andiamo insieme ad altri milioni su questa nave arca, veniamo risvegliati e in pratica dobbiamo ricostruire un nuovo mondo da un'altra parte. Questo è l'incipit dell'avventura. Abbiamo creato il nostro personaggio, purtroppo ho fatto un po' di casino con l'account, perché in pratica non capivo dove dovevo inserire questo codice di attivazione, perché generalmente invece si acquista dal sito. 69 euro un anno, 21 euro tre mesi, quindi conviene l'anno se proprio può piacervi. È un gioco che si baserà tantissimo sulla costruzione e sul possedimento della Terra da parte dell'utente. La permessa che faccio, poi aspetteremo che finisce di caricare, la permessa che faccio è che è un gioco enorme ed è in beta, quindi già nella pagina principale del gioco si vedono tutte le features che verranno aggiunte, quindi è un gioco in continuo sviluppo, non escludo neanche Wipe, secondo me, e quindi non è che lo potremmo vedere a livelli avanzatissimi, vedere navi, stellari, insomma, l'andremo ad analizzare, perché appunto il gioco mi incuriosiva e credo non incuriosisse solo me, quindi lo andiamo a provare dagli inizi, vediamo un attimino il tutorial che cosa ci fa vedere e vediamo che cosa ne pensiamo, insomma, che conclusioni ne traiamo. Ora, attendiamo la fine del caricamento e poi vediamo. Ed eccoci. Ce l'abbiamo fatto. Ok, questa è l'intelligenza artificiale che ci sta parlando. Aphelia. Ok. Ok, praticamente ci sta dicendo che nella chat in basso, a sinistra, ci dirà quali tasti premere e ci guiderà. Quindi qua siamo arrivati. Ok. Shift più Backspace per chiudere. Non è raccomandato, va bene. Allora, ci muoviamo con Buzz, interessante. È un pelino pesante, devo ammettere. Vediamo un attimino se non mi è andato in 4K, ma... Ok, no, direi di no. Qua sotto possiamo vedere anche altre persone che stanno camminando, si stanno muovendo, stanno tentando di decollare con qualcosa. Perché sarà un gioco interamente basato sull'utente. Quindi la costruzione, le navi, le stazioni spaziali, le stazioni sui pianeti, i commerci, tutto basato sugli utenti. Allora, in pratica dobbiamo andare col tasto Shift, si corre. Ci sembrerebbe dire di andare qui. Ok. Proviamo a saltare. Saltiamo. Uh, abbiamo il Jetpack. L, accendiamo. Ok. 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 È tutto nostro da conquistare questo gigantesco pianeta. E ci sono altri pianeti nel sistema. Sei libero di plasmare il mondo, come vuoi, costruisci un impero, esplora la vastità dello spazio, crea una federazione di commercio o una alleanza pirata. O vivi in una luna persa da recluso, insomma. Non ci sono regole qui, eccetto quelle che tu crei per te stesso. Quando sei pronto, segui il waypoint. Mi entusiasma molto come esperienza. Ovviamente mi fa pensare a un gioco che debba essere giocato a pieno, solo quello, o comunque con estrema dedizione. Lo sto trovando semplice come inglese, almeno riesco a capire fino a questo momento. C'è qualcuno che è atterrato qua in alto. Questo è una nave. Poi ricorda un po' Space Engineer. Ok. L'edificio in fronte a te è uno dei molti del distretto di Aliot. I distretti contengono tutte le facility di cui tu hai bisogno per cominciare il tuo viaggio. In particolare l'istituto Host, dove sono localizzati i vari tutorial. Ci troviamo più tardi, ora hai tempo di andare, preparati per il tuo viaggio, prendi le scale che scendono e segui i waypoint. Ok, andiamo. Benvenuti ad Aliot. Vediamo, è un gioco che è stato un'enormità in alfa. Anni, parliamo. Continua giù e vai vicino allo schermo. Ok. Vediamo, perché potrebbe fare addirittura concorrenza a un altro gioco. Insomma. E non sto parlando di Elite Dangerous. Ok. Iniziamo guardando i tuoi tool. Sono localizzati in basso allo schermo. Eccoli lì. Dal tasto 1, no. Dall'1 al 9. Come puoi vedere, i slot sono correntemente vuoti. Attualmente vuoti. Ora impareremo come equipaggiare i nuovi tool. Ah, ci sta facendo vedere. Ok. Approcede. Ok, dobbiamo andare qui, in questo storage. E premiamo F. E poi, vabbè, ci dice di trascinare i vari tool lì sotto. Attiviamo il dispenser. Ah, l'ho preso. Adesso premiamo il tasto I e possiamo trascinare tutto qua sotto. Adesso vediamo. Cioè, praticamente dobbiamo trascinare il repair tool qui. Ok. Ah, abbiamo in pratica il volume. O il peso, la massa, insomma. Ora, chiudi l'inventario premendo la croce in alto. Perfetto. Siamo pronti per continuare di sotto. Ma, scusate, ma che cosa ho nell'inventario? Un sacco di roba. Mi sembra abbastanza ostico come... Nel senso, diamo un'occhiata. C'è il repair tool che ho messo sotto. Poi abbiamo il maneuver tool. Per riposizionare o altrimenti vuotare, ok? Flatten per spianare, il mine tool per minare, lo scanner, avvestare, quindi la raccolta. Deploy voxel tool. È un casino, un gran casino. Mi piace però, mi piace questa cosa. E dà questa sensazione di bassi fotogrammi, ma ovviamente perché deve essere perfezionato. Il gioco, ricordo, era in vendita a un prezzo assurdo per giocare l'alpha, ma l'alpha io non l'ho mai comprata. Gli sviluppatori mi hanno sempre detto, guarda, no, non puoi portare video perché c'è l'NDA. Quindi, ora non c'è più, ma gli sviluppatori hanno avuto modo di avere questa chiave per poter fare non so quanto tempo. Allora, gli ascensori sono connessi insieme, dà dei link, insomma. Possiamo abbassarci con C o saltare e ci permettono di trasferirci al nuovo piano, ok? Vai sopra lì e premi C. Ok, figo! Bello, però fluido il movimento. Benvenuto alla stanza principale. Ora puoi tornare indietro ogni volta... Ah, ok, possiamo andare qui e fare salto. Ok, plus spacebar. Proviamo un'altra cosa. Apri la mappa, premi F4. Ok. Questo è Elyon, il pianeta in cui sei attualmente. Puoi ruotare il pianeta cliccando e trascinando con il mouse. Puoi anche zoomarlo con lo scroll. Ok. Ah, ok! Questi sono i famosi esagoni. Adesso li vediamo, ok. Questi tile qui sono i territori che noi possiamo reclamare. I tile in viola sono non climbabili, non acquistabili. E... Ok. Ok, premendo qua, andiamo a puntare dove siamo noi. Ok. Ah, possiamo creare anche un waypoint sul pianeta. E sono mostrati nella nostra UD per muoverci. Perfetto. Adesso prendiamo a vedere anche questi, questi altri menu. Ah, ok. Set un waypoint cliccando sulla mappa. Ah, ok. Possiamo cliccare lì. Ok, ok, ok. Set a destination. Perfetto. Set as destination. Very good. Ci sono molte aree sulla mappa che tu imparerai col tempo. Per esempio, il selettore dell'area che ti permette di vedere un elenco di costruzioni specifiche. Nel basso a sinistra ci sono gli obiettivi nel tutorial e solitamente anche suggerimenti su come ottenerli. Per ora, ora chiudi la mappa nel... Ok, no, col cavolo, voglio dare un'occhiata. Perché qua c'è tutto il viola che non è climbabile. Il rosso, presumo, sia quello climbato, credo. E il resto non lo è. Figo perché voi potete andare a climbare il terreno. Non so se sia legato al fatto che magari le acquistate in gioco o cosa. Questo è il sistema solare. Lo spazio non c'è. O non è ancora stato aggiunto, però direi che di cose ce ne sono. Già abbastanza. Potreste... Sulla mappa... Ok. Che alcuni tiles sono claimati. Per claimare un tile devi dispiegare il territory unit sul terreno. Ok, segui il waypoint. Ok, adesso ci spiega come fare. Allora, il waypoint sul terreno. Andrugazza. Lì. Ok, questo. Ah, eccolo qua. Come puoi vedere, è abbastanza grosso. Quando un territory unit è dispiegato in un tile, quel tile appartiene a te. Significa che puoi iniziare a costruire su esso. Puoi decidere... Allora, scusate. Per decidere... Ah, chi può... I diritti di chi può scavare sul terreno. Ok. Le unità territoriali sono abbastanza costose e probabilmente non saranno la prima cosa che tu farai su Aliot. Invece tu hai molti più modi di prenderti un pezzo di terra. Scopriamolo ora. Segui il waypoint. Ah, ok. Dove è tornare di sopra. Sì, in pratica ci dice che questo qua ci serve per dispiegare il... Cioè per ottenere il terreno, ma al momento è costoso. Ci sono altri metodi. Andiamo a vedere che metodi ci sono. Dobbiamo salire di sopra, da quello che ho capito. Infatti, andiamo qui. Qua si può solo salire. Non si può scendere nel salire. Salta. Ah, benvenuto all'osservatorio. E riesco anche a capire quello che dice anche solo ascoltando. Incredibile. Qua possiamo vedere le lune nel cielo. Le lune indogacchie sono. Ah, lì c'è qualcuno sopra. C'è un'unità di misura SU che non so cosa sia. Ah, là è dove eravamo prima. E dove c'è gente che varga. C'è quella nave a terra da sopra. Qua c'è... Non so cosa sia. Salve, buongiorno. Ok. Mamma mia, questo qua può essere il gioco del futuro, davvero. O un flop totale, o il gioco del futuro. Allora, F4. Andiamo a vedere System Zone. Seleziona Elliot e cliccaci sopra. E dove è Elliot? Ah, come puoi vedere... Elliot a tale lune. Una di loro sembra una coppia gemella di Elliot. Se non ho capito male. Che è identificata con un piccolo scudo. Questo è il santuario della luna gemella. O il gemello. In breve. Selezionalo. Set destination. Ah, ok. Let's click set destination. E vedrai un waypoint visibile nella mappa 3D. puntando al gemello. Ne avremo bisogno per questo, ok. Prima che ce ne andiamo, diamo un'occhiata alla superficie della luna. Clicca view planet. Ah, ok. Anche qua ci sono i claim, ok. Una luna santuario è una luna dove non si combatte. Ok. È una safe zone. Questo significa che ogni territorio che è claimato rimarrà tuo per sempre. E nessuno potrà portartelo via, ok. È un gran pericolo questa cosa, però. Allora, vediamo. Ah, ok. Come prima cosa andremo a claimare una cosa. Puoi claimare solo un tile su Sanctuary Moon. E avrai bisogno di uno speciale Sanctuary Territory Unit per questa cosa. Ok. No, la cosa interessante è che, ok, la luna santuario ci dà una casa sicura. Ma tutto quello che noi facciamo in giro, che sia un'attività economica o meno, qua poi, o sean caster, se guarda questo video potrà aiutarci con i commenti qua sotto, perché lui avrà seguito bene anche le live degli sviluppatori. Se voi costruite qualcosa e ve lo distruggo non lo perdete. Ma questo vale per tutti. Questo è un pericolo. Perché? Primo, deve esserci tanta gente che gioca, se no il gioco non decolla e non c'è economia. Seconda cosa, va molto in base alla testa della gente. Nel senso che ci saranno quelli che punteranno a distruggere tutto. e io come utente magari mi faccio una piccola navetta o una stazioncina, la lascio lì, me la distruggono. Nascerà poi con la gente invasata che ci gioca giorno e notte, le grandi corporazioni. Dipende un po', già, se la dessimo solo gli italiani faremo guerra anche sulla Sanctuary Moon, anche se non si può, insomma. Però vabbè. Chiudiamo la mappa. Nota ora che la Sanctuary Moon è identificata dal Waypoint. Eccola là. Eccola là. Non la vedevo prima. C'è uno Shuttle Service che ti introdurrà. Ok. Ora vai qui e prendi che cosa? Ma vorrei anche capire, perché mi fa prendere roba, ma non so che cosa. Ah, ho preso Sanctuary Item Territory. Ma vorrei capire che cosa mi da sto a fare. Non mi fa cliccare, ma me lo prende e basta. Vabbè. Vabbè, andiamo giù. Andiamo giù. Andiamo giù, giusto? Dobbiamo prendere uno Shuttle adesso. Dobbiamo andare sulla Luna. Sulla Luna Santuario. Quindi giù. E ora è tempo di presentare l'attività dei Pillars che sono disponibili per i Novean, che siamo cittadini, insomma. Ognuna di questi è presentato qui velocemente e più tardi sarà possibile scoprirne altri. via gli istituti e i tutorial dedicati. Ah, quello sta salutando me o sta salutando la statua? Salve, eh. Non so fare gli emote, quindi... Ma sei anche di spalle? Da che parte sei girato? Lodvar. Vabbè. Vai alla Mining Station per prima cosa. Segui il Waypoint. Ah, è qua. Ah, ok. Salve, buongiorno. Lei è. Il Mining è la prima attività. Mi piace, Minaya. La prima attività. è come tu acquisisci i materiali grezzi. Se non li acquisti semplicemente dal mercato, li scavi, insomma. Questi materiali sono localizzati sul pianeta, sulla superficie del pianeta, e possono essere anche sepolti chilometri sottoterra. La superficie, i materiali superfici hanno un valore basso, mentre quelli che valgono di più sono, da livello 1 a livello 5, sono trovati più in profondità. Come spesso, per accedere alla Surface Mining Activity, hai bisogno di un tool. Qui c'è l'arvest tool, che è evidenziato in the toolbar. Punti, ok. Primi. Ok, dobbiamo premere il tasto 1. Ah, ok. Col sinistro. Grande. Adesso, fortunatamente, non ci sono materiali avvestabili qui. Così avrai bisogno di andare in un tutorial dedicato nel Mining Institute per far pratica. Ora, disequipaggialo premendo di nuovo I. Ok. Per iniziare il Mining a livelli più bassi, hai bisogno di scansionare per materiali disponibili. Quindi bisogna premere il tasto 3. Ok. Poi c'è il detector direzionale, che ci indica la direzione. E finalmente puoi, col tasto 2, raccogliere i minerali, semplicemente scavando. Ok. Ok, andiamo al Mining Institute poi a imparare, insomma. Ora parliamo del market. Andiamo al waypoint. Tra l'altro, io mi dicevo, se un castera, che non è tutto automatizzato. Cioè, ci dovranno lavorare, da quello che ho capito. Perché in pratica voi potrete fare, vedete, i macchinari che lavorano i materiali, ma la nave che arriva e a terra e scarica in automatico, credo, non funzioni. Però magari lui poi saprà dirci sicuramente di più. Dovremo andare al waypoint, che è questo, marketplace. Il market è una parte essenziale della vita dei nove anni. È dove tu puoi vendere i materiali, che scavi, ma anche acquistare quello che tu hai bisogno. Il market è fisicamente localizzato nel mondo, è accessibile via il market pod, questo qui, che è come quello che hai di fronte a te, o via il nanomarket integrato nell'interfaccia. Il nanomarket ti permette di sfogliare il mercato a distanza, ma non ti aiuta a depositare o recuperare i materiali che hai commerciato. Per questo hai bisogno di andare direttamente a un market pod come questo, ok. Molto velocemente abbiamo avuto dare un'occhiata premendo J. Non mi ricordavo più niente di questa roba. Ok, puoi cercare i materiali con questo tool qui. Perfetto. Guardiamo un po' quanti ce ne sono. Mamma mia, quanta roba c'è. Elementi. C'è ancora qualcosa non tradotto. Va bene. Nitron is a fuel che puoi usare a volte e acquistare frequentemente. Digita Nitron. Ho scritto giusto? No, senza la Y. Nitron. Perfetto. Tu hai fatto bene, risponde bene. Puoi vedere gli ordini. Quindi, ci sono gli ordini di acquisto e gli ordini di vendita. Un po' qua alla Y.V.Online. Dagli altri giocatori o i vari market nel suo sistema solare. Puoi raccogliere, puoi prendere il più economico. O puoi creare tu stesso un ordine di vendita o acquisto. Ok. Ah, la distanza. District 3, market place, 23 km. È bello grande questo pianeta. Ora diamo un'occhiata ad un'altra importante attività. L'industria. Vai all'industria station. Eccola qui, che figata. Salve, buongiorno. Anche lei si sta facendo il tutorial? Cos'è quello? Voglio vedere quello. Allora, di fronte a te c'è la linea di assemblaggio, insomma, di produzione. Ok. Include reattori chimici, fornaci di vetro, raffinerie o raffinatori. Raffinerie o smelter, insomma. Non sono sotto a due forge. Ogni industria ha un tipo di specializzazione. Ok. La linea di assemblaggio può prendere ingredienti da un container, che è sulla sinistra, e avviare il crafting. Ah, con la freccia, ok. Gli elementi sono stipati qui, ok, quelli che vengono in pratica raffinati e lavorati. Ah, ok. Ok, dobbiamo prendere degli elementi che ci sono qui dentro, che ci serviranno per provare. Perché dovremmo avere anche un nanocrafter nostro. Quindi in pratica dice che da qua prende i materiali, li prende, li raffina e poi li butta qua. Ok, abbiamo preso. Ora apri il nanocrafter, un po' come il crafter integrato su Empyreon. Premiamo il tasto K, non mi ricorderò più niente di tutta questa roba, guarda quanta roba c'è qua, lato, i talenti, le organizzazioni. Che casino. Sulla sinistra, seleziona... Ah, seleziona solo quelli fattibili, ok. Ok, seleziona Nitron Fuel, aggiunge la coda. Quindi praticamente ci chiede tutti questi materiali per fare quello, ok. Facciamo 100 litri di Nitron Fuel, usando 20 puro silicio, puro carbon, puro carbonio, puro ossigeno, 40 litri, ok. Incredibile, 40, 80, 100, cioè 100, 100, senza perdita, fantastico. Vabbè, aggiunge la coda. Puoi vedere il tuo lavoro in coda. Ci servono diversi secondi, un minuto circa per farlo. Ok, sembra che qua ci sia veramente tantissimo da fare in sto gioco. Ok, possiamo fare anche altro e ci viene notificato quando tutto è pronto, ma a sto punto lo aspettiamo, ci mancano 24 secondi. Poi direi che possiamo chiudere qui e andare a aspettare, insomma, il prossimo video dove continueremo esattamente da questo punto. Vediamo adesso che finisce di craftare. Per me sono 4 litri, per 100, 4 chili e litro. Mamma mia, sono 400 litri. 400 chili? Eh, sì, sì. Ok, abbiamo craftato. Per ora chiudi, ok. Perfetto. Ragazzi, ora il tutorial ci porta a costruire, ma aspettiamo il prossimo gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao. Alla prossima ragazzi. 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 Alla prossima ragazzi.